Musica Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale Oggi siamo con un titolo molto interessante, una nuova serie Quindi fatemi sapere sotto nei commenti se vi può garbannare questa serie sul mio canale Ovviamente il vostro feedback è importantissimo Ragazzi, avete mai sognato di aprire un internet caffè? Adesso insieme a me si può fare, possiamo aprire un internet caffè Dove acquisteremo computer e far venire la gente a usare i nostri computer e bere caffè Quindi è la parola quella, quindi insieme lo possiamo fare Da oggi ci andiamo ad aprire un nostro internet caffè Simulator 2 Il gioco è appena uscito ieri, quindi lo potete acquistare su Steam O usando il mio link in descrizione su Easter Gaming Sotto in descrizione ragazzi che avete lo sconto su questo gioco Ma su qualsiasi gioco, ma ovviamente ve lo metterò in descrizione Anche questo gioco che uscirà anche sul mio sito internet ragazzi Uscirà come articolo e recensione fatta da me Quindi non mancate anche di visualizzare il mio sito in xpaxx.it Mi raccomando Detto questo ragazzi, quindi andiamo a fare una nuova partitazza Dobbiamo dare il nome al nostro internet caffè ovviamente Dobbiamo dargli un nome Quindi pensiamo, cioè dobbiamo dare un nome al nostro negozio Come lo vorremmo chiamare Internet caffè Allora già internet caffè è il suo nome Però poi possiamo dare un nome nostro Tipo che ne so Possiamo chiamarlo Internet, muoviamo Internet H24 Possiamo fare, no mi piace Che cos'è internet H24 Cioè non Non ha senso internet H24 Possiamo chiamarlo Chiamarlo gaming Gaming House House Ah possiamo chiamarlo gaming house Non lo so ragazzi Chiamoli gaming house Che ne so Tipo la casa del gaming Il gaming della casa O house gaming Vabbè un gaming house Un bel nome mi piace Tipo la casa del gaming Visto che è un internet caffè La gente può anche giocare Qui quindi E poi la cosa bella ragazzi Che ieri lo stavo spippolando Un po' anche sistemando Stavo vedendo un po' la grafica Se era ottimizzata e tutto Perché io prima di portare un gioco Che mi danno Per portarvelo Lo provo Ma soprattutto vedo Testo la grafica Se va bene Se posso giocare in ultra Perché non tutti i giochi Sono ottimizzati al meglio Appena escono Quindi Quindi questo gioco Invece è fatto bene Ragazzi ve lo consiglio Lo potete trovare su steam O su stream game Uscito ieri Un uovo nuovo di pacco Puzza di nuovo Insomma quindi detto questo Quindi Stavo spippolando un po' ragazzi E la cosa bella è che Sono sicuro che vi piacerà Perché ho detto Quei sicuramente Ai ragazzacci Li piacerà Perché È una cosa che Come andremo a vedere Io ci ho giocato due minuti Ragazzi Ma giusto per provarlo Quindi non mi sono Manco io spoilerato nulla Quindi tutte le cose Che andremo a vedere Siamo solo tutte nuove Quindi Però la cosa che Sto sicuro che vi piacerà Molto interazione C'è molto interazione Molto simulato E questa cosa è molto bella Quindi È un gioco che ci possiamo divertire A costruire questo Internet cafe ragazzi Quindi Allora Di WQ Benvenuto Si dice Ci da il benvenuto All'Internet cafe I controlli Ovviamente con la tastiera Ragazzi Gioco con la tastiera Col pad Non so Perché ancora non l'ho provato Però Se nel caso Metteranno col pad Ve lo farò sapere Se vi piacerà questa serie Ragazzi dipende da voi Se vi piacerà questa serie Per poterlo continuare Ovviamente sotto nei commenti Il vostro feedback È importantissimo Ok Allora Questa è la nostra casa Questo è il nostro letto Si fa un po' schifo Per dire la verità Allora Questa è la nostra casa Qui possiamo Ah Possiamo anche fumare Il Vabbè Questo non si fa Però qui lo potremmo fare Ma non si fa Non si fa Allora Vabbè Questa è la nostra casa È bello Mi piace Questi archi Tipo stili indiani Ok Dove devo uscire Male ci abbatte Ok Open the door Ok Lasciamo Chiudimi la porta Di casa Ah Elevator Questo sarebbe l'ascensore Ah Dobbiamo premere Qua Ok Aspettiamo che sale Vedete Molta interazione C'è Dobbiamo anche premere Per chiamare l'ascensore Molto figo Guardate l'ascensore Che sale Non è caso Il caso sa Ok Saliamo Fa un po' di rumore Ok Oh Scendiamo sotto Sì trema un po' Trema un po' Proprio l'ascensore Che trema Ragazzi Non è la Il video Proprio Ok Dove cazzo possiamo uscire Ah Questo è a doppio Ah figo Salve Oh my god Allora Premi M Per la mappa Oh Allora Second shop Club Bccminer Cioè ci hanno messo anche le criptovalute Possiamo minare anche all'interno del gioco Cioè ormai le criptovalute sono andate talmente tante E qui dovrebbe essere il nostro internet cafe Quindi dobbiamo andare Tutta a sinistra e poi a destra Oh Salve Madonna mia Ma che Oh Madonna Salve Eh C'è un po' di gentaglia qui Ma come cazzo Vi siete vestiti Oh Oh ma sto ballando Mi sta sposta Cus Oh Spostatevi Vabbè Dopo ci vediamo a fare un salto qua Salve Oh tu che fai Ehi Salve signorina Vabbè basta 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 Ho visto troppo Interessata questa città Interessantissima questa città Ma qua non si può passare Ah no Perché dovevamo girare qua Perdono eh Mi sono un attimo fatto prendere dalla mano Tanto molti canive Eccolo qui il nostro internet caffè Oh ma ro Quanto cazzo sei brutto Ma perché c'è sta maschera Ma sta accendendo Ma perché è già immagino mascherata Guardate ragazzi Il nostro gaming house Il nostro gaming house Signore Mo' è chiuso ovviamente Siamo pronti A vedere che cazzo di posto è Oh my god Dobbiamo attivare l'elettricità Ma cazzo stiamo Qua No Ma c'è ma questo è il nostro internet caffè Cioè raga lo dobbiamo rimettere A nuovo questo è sicuro Ehm Ah questo forse Oh madonna mia Ma non è che sta a chiamare in aria No Prendi il mop Ad clean you cafe Dobbiamo prendere questo E pulire tutto questo schifo Oh maronna mia Perché abbiamo una mazza Abbiamo un istintore Abbiamo un compi Ah Ma che cazzo è que Il termometro Lo spray Ma che cazzo Cioè Ma che ho Il cane si è morto Ehi No sta a dormire Cioè quindi dobbiamo anche misurare La temperatura della gente che entra Ma che è Ma pure nel gioco abbiamo portato sta pandemia Scusatemi Comunque Abbiamo un computer Non so manco se parte Vabbè ragazzi Questo è il nostro internet caffè Lo dobbiamo trasformare In un negozio che va Perché Dobbiamo Dobbiamo intascare soldi Quindi Ma il tavolo io lo posso mettere Una parte che non mi dà fastidio Posso metterlo così Ma se io lo voglio girare R Ok Mettimelo un attimo Giusto Così Ah wow Possiamo metterli Il computer No ragazzi Ma che bello Il gioco Quindi già da qua Già sono sicuro Che vi state Gasando insieme a me Cioè ragazzi Possiamo comprare Non lo so Io ragazzi Io fine qua Non c'era arrivato Io stavo solo testando La grafica ieri Non ce l'ho ancora arrivato Qui Che figato Vabbè Prendiamo questa Ok Dobbiamo pulire Così Ah ok Quindi possiamo andare avanti così Ok Quindi dobbiamo pulire Questo schifo Ok Quindi pulire i piedi Ok Vabbè ragazzi Andiamo a pulire Che dobbiamo fare Ci tocca Che dobbiamo fare Quindi Da quello che ho capito Dobbiamo solo Andarsi sopra Ragazzi Potrebbe essere Una serie Molto interessante Ovviamente Fatemi sapere ragazzi Voi il vostro feedback È interessante Voi Voi mi dovete dire Se vi può piacere A me mi piace ragazzi Io lo porto E Mi farà felice Se piacerà anche a voi Insomma Quindi Allora Ok Diamo Fiamo a pulire Ok Abbiamo finito A pulire tutto Ok Non c'è più niente Giusto Da pulire Vabbè abbiamo Puri i muri No Ok La possiamo lasciare qua Così Ma no Così Ma lasciamola Così Ok Vai su Allora Compra al computer Un case Un monitor Una Una tastiera E Un mouse Su Zam Su Zamzor Ok Andiamo sul computer Ma funzionerà Questo computer Premi Spazio Per accenderlo Cazzo È un trattore Però Carica abbastanza veloce Ragazzi Parte come un trattore A diesel Però Parte Qua possiamo aprire Anche il nostro Internet Caffè Ovviamente noi qua Gestiamo L'intero La baracca Insomma Possiamo vedere Abbiamo 2000 dollari Possiamo gestire Il tempo Possiamo vedere Possiamo Non lo so Vabbè Possiamo Vedi Controllare La visuale Da qui Salve Signorina Vabbè Comunque Allora Banda le ciance Allora Andiamo su www Vabbè Ci sono anche altre cose Le mail Zamanzor No Raga Ma che ficata Possiamo acquistare Noi le cose Possiamo mettere Le console L'arcade No Raga Possiamo mettere Tutto Le sedie da gaming Il joystick No Ragazzi Monitor Ragazzi Ma che gioco Vi sto portando Che titolone Vi sto portando Voglio almeno 100 mi piace 100 100 ne voglio Ma che gioco Vi sto portando Signori Porca miseria Possiamo mettere Anche scrivani E tv VR controller C'è il mondo Praticamente C'è Vabbè 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 raga Era giusto Stavo spippolando Un po' Quello che c'era Allora Noi dobbiamo comprare Un case Quindi Ovviamente Ragazzi Andiamo a comprare Roba C'è Roba tranquilla C'abbiamo 2000 dollari Quindi non possiamo Comprare un case Di 870 euro Insomma Quindi Però Direi Possiamo andare a comprare Un computer Questo qua Di 300 dollari Quindi Andiamo a comprare questo Poi Ci serve Un monitor Quindi Mamma mia Che figata Quindi abbiamo noi Mamma mia Vabbè monitor Monitor L'avevo visto sotto Monitor Andiamo a comprare Un po' Quello un po' Più scar No L'ECD No raga Poi ci costa Già Vabbè Andiamo Ah boh Raga Io voglio il top Voglio il top Voglio subito partire Con il top Vediamo se abbiamo fatto La scelta giusta E poi una 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 tastiera Ovviamente Prendiamo questa Tastiera Prendo questa Non mi interessa E un mouse Signori E un mouse Un mouse Mouse Possiamo comprare Questo di 120 120 lo compriamo Dai Andiamo qui In totale Abbiamo Quando spendiamo Ho capito Ma come cazzo Ordino Scusami No Mannaggia Mi sei fatto Un macello Ma come Elettricità Is off Ma Come Elettricità Is off Ma che cazzo Ma che sordino Computer Ma guarda un po' La madosca Cioè qua abbiamo Anche ciò Che fa le biz Senti questo è un trattore Quando si accende Vabbè Vabbè L'importante è che abbiamo Anche internet In questo posto Vabbè Dobbiamo solo confermare L'ordine Ma Forse andando sotto Ok Perfetto ragazzi Abbiamo fatto l'ordine Quindi dobbiamo Aspettare che ci arriva White For the production To arrive Quindi dobbiamo Aspettare che arriva Ehm Ma non so Arriverà un corriere Salve Ma lei Ma qua tutta gente Beh bendata A me ste cose Mi preoccupa un po' Amazon dove viene Dove dove Oh cazzo Questo è Amazon Ma Ah mi lascia qui Grazie Grazie mille Con il cammello Guarda che roba fragile Però eh Prime Oh mi sposti Ma che cazzo Di figato Cammello Prime Vabbè Ma abbiamo rotto qualcosa Mannaggia la miseria Io già lo so Che abbiamo rotto qualcosa Abbiamo rotto qualcosa Perché sicuramente Dobbiamo riordinarlo Allora Skateboard Ehm Allora il monitor No Guarda che abbiamo rotto il computer Non ci credo ragazzi Ok Ehm Questo che Che dovrebbe essere Ah il case Ok Eh cazzo Abbiamo rotto il mouse Porca miseria Ehm Ci manca il mouse Ma Ma lei che me l'ha messo Entro lo zaino Ma porca miseria Ma me l'ha rotto il mouse Ah no Eccolo qua Ok Ok Ma ci serve Solo una sedia Però E il mouse Lo mettiamo qua E ma mi serve Solo una sedia Ma questo Già la posso mettere Ma io ci metto qua Ragazzi Cazzo me ne frega Maronna Ragazzi Abbiamo un computerone Open decaffè Quindi possiamo aprire il nostro Il nostro internet caffè Però io ragazzi Questo per il momento Lo possiamo lasciare anche qua Quindi ragazzi Possiamo aprire Il nostro internet caffè Perché abbiamo Quindi un primo cliente Potrà venire Usufruire A fare Quindi dobbiamo anche controllare Ma scusi Come funziona No no Mannaccia Ok Ma ragazzi Sai che dico Scusa Controlliamo un attimo Quindi possiamo aprire Il nostro internet caffè qui Ok abbiamo 1123 Ma io voglio Scusa Io voglio ordinare Anche un'altra cosa Se si può Monitor Mouse Io ho visto anche Le luci Fan Che cos'è Ah i ventilatori Perché qua fa molto caldo Ordiniamo anche questo qua Un ventilatore Ce lo voglio ragazzi Vedete ce lo voglio Perché qua sicuramente Farà caldo Intanto viene Viene cammello prime Ok ragazzi Cammello prime Aspettiamo cammello prime Ma che figata Il cammello prime Ragazzi È una figata Poi è un bello pure qua Che mo' è chiuso Vedi Closet Però Ragazzi Ci possiamo divertire Oh che è qua Embriaco sta Ah Dobbiamo stare attenti a questo Tanto è chiuso Questi sono Dobbiamo stare attenti Forse Ecco il cammello prime Grazie Allora il ventilatore Ce lo andiamo a mettere Ragazzi Ma Che cazzo è successo Ma che cazzo ha fatto Cusù Ma Scusa Ma scusami in attimo Non ho capito Che cosa è successo Aspettate ragazzi Non ho capito Che cosa è successo bene Vuto quello Si è fiondato Dentro al negozio Scusatemi Ma che cazzo è successo Scusatemi Non ho capito Che cosa cazzo è successo Però Raga non ho capito Che cosa cazzo è successo O è cascato Si è fatto male O ha fatto un attentato Non lo so Qualcosa È successo Qua insomma Ok Ok Vabbè Ok Vabbè Vabbè Allora questo lo possiamo Accendere Ovviamente Così diamo anche un support Vabbè raga Era giusto per farlo Facciamo una cosa Possiamo spegnere Possiamo chiudere Il nostro costo Ce la andiamo a casa Per il momento ragazzi Per me va bene così Abbiamo fatto già tanto Intanto qua c'è la musica Poi dobbiamo approfondire Anche qua eh Qua si può entrare Salve Che vende lei Ok Vabbè Torniamo a casa Che qua Oggi si è fatta già una certa Abbiamo fatto già Un massacro Ok Ma mo sorge un dilemma Abitiamo al secondo O al terzo Provo il terzo Così Cioè raga ma quello che ha fatto Se cammina si è sfracellato Ma che cazzo ha fatto Quello là Non capisco Vabbè Come Ah Gulla Primo colpo proprio L'abbiamo Abbiamo fatto Vabbè raga Facciamo una salvatina Salvataggio ragazzi Ovviamente salvataggio Perché abbiamo fatto tante cose Raga abbiamo combattuto Quindi game save Vabbè ragazzi Noi ci possiamo Lasciare qui Con intercaffè simulator 2 Ragazzi Fatemi sapere il vostro feedback Se vi può piacere Questa serione Pazzesca Dove Abbiamo già costruito Il nostro intercaffè L'abbiamo chiamato Il game house Quindi la casa del gaming Abbiamo comprato già Un combusto di tutto Uno si è sfracellato Ma sono dettagli Abbiamo comprato Un convendiatore Per servire un servizio in più Ovviamente ragazzi Lo dobbiamo rimettere a nuovo Ma piano piano Quando cominciamo A intescare qualche soldo Lo andremo a migliorare E comprare Sempre pc Più performanti Ragazzi Detto questo Spero che questo video Vi sia piaciuto Grazie di essere stati con me Un mega bacio Ragazzi Spolliciate in su Condividete questo video Iscrivete al canale Attivate la campanellina Per non perdere mai nulla Ragazzi In descrizione Tutti i link Sono gratuiti Quindi non vi costa nulla Passarci Ragazzi Mi raccomando Questo gioco Lo troverete O su steam O sul mio link Di instant gaming Che troverete sotto Iscrizione Con ulteriore sconto Su questo gioco E su qualsiasi altro gioco Che vorrete acquistare Ragazzi Detto questo Uscirà anche una recensione Sul mio canale Di questo gioco Che sto portando Ovviamente Il mio Il mio pensiero del gioco Quindi andate anche A visitare il mio sito In xpazx.it Per molte varie Per molte notizie Anche di giochi In uscita In questo In questo gennaio Ma in anche altri mesi Ragazzi Detto questo Un mega bacio E grazie con me Alla prossima Ciao a tutti ragazzi